Sei pronto per volare? Oh, quando manca il Kella, eh Piero? Le donne toccano i conti, naturalmente, vero? Come mai, eh, Kella? Kella fuori, vero Sandro? Ormai, dice, te proprio uomini e basta. Non mi arriva neanche la domanda. Dice uomo o donna, no, uomo. Ci vediamo in aria tra poco, va bene? Mitico, yep! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che roba, eh? Dolore all'orecchi. L'orecchi? Il resto è tutto godimento? Il resto è tutto godimento. Yeah, pa! Woohoo!